L'attività sportiva di tante persone tra i 25 e i 50 anni è giocare una o due volte a settimana a calcetto ma allo stesso modo potrebbe essere tennis, beach volley oppure paddle o qualsiasi altro sport generalmente di squadra o gioco. In questo video ti spiego perché questa è la strada più veloce per farti male e trovarti a non muoverti più. Se questo è il tuo caso il concetto che ti stai perdendo di vista è che stai andando a giocare senza essere pronto a giocare, senza essere pronto a farlo. Cosa intendo? Solitamente la maggior parte delle persone fa sport da ragazzo per poi smettere quando inizia le scuole superiori o bene che vada all'università o magari il lavoro. Dopodiché il tempo per fare sport e l'attività fisica sembra sparire come per la magia. Spesso dopo qualche anno di inattività ti accorgi che non stai poi così bene senza muoverti. Allora alla prima occasione che magari un tuo amico o una tua amica ti invita ad andare a giocare a calcetto o a pallavolo o qualsiasi cosa ti butti perché lo trovi un buon modo per ripartire con l'attività fisica. Il problema è che sono passati un po' di anni dall'ultima volta nei quali non ti sei più allenato o non ti sei più allenata e quindi è molto probabile, toccati dove vuoi, che il tuo corpo non sia pronto per giocare senza andare incontro a problemi e a volte infortuni. Il problema non è la partita a calcetto, padel, qualsiasi cosa. Il problema è che non c'è una preparazione fisica alla base che ti prepara ad andare a giocare. Giocare a qualsiasi sport non deve essere confuso con una preparazione fisica ma deve essere visto come il momento dove applichi le capacità, il tuo potenziale, quello che coltivi quando ti prepari. Se ci stai seguendo da un po' stai vedendo che ogni settimana usciamo con un contenuto spaziale quindi se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale e adesso continuiamo con questo video. Giocare a qualche sport è una figata incredibile e ti consiglio di continuare a farlo ed è anche super importante per la nostra salute sia fisica che sociale. Io ad esempio in questo mio momento di vita sto giocando molto a tennis e mi diverte davvero un casino ma il tennis nel mio caso non sostituisce la mia preparazione fisica. Il concetto che ti devi portare a casa in questo video è che lo sport non deve assolutamente sostituire la preparazione fisica allo sport. So che sembra un gioco di parole ma è veramente molto molto importante capirlo. Vediamo ora più nel dettaglio cosa intendo con preparazione. Preparazione fisica significa sviluppare le abilità di base del corpo umano che tutti quanti dobbiamo sviluppare come la forza, la flessibilità, la coordinazione, la velocità e la resistenza. Ora lo so che potrebbe sembrarti tanta roba e tu hai solo quell'oretta libera il giovedì sera per giocare a calce. Ma la realtà è che ti bastano un paio di allenamenti a settimana da 20-30 minuti per evitare la maggior parte dei problemi che potrebbero insorgere andando a giocare senza prepararti. E ricorda che non avere tempo è sempre una scusa al 100%. Inoltre se sei interessato o interessata a sapere di più sui nostri percorsi di preparazione fisica per adulti ti basta visitare il nostro sito www.movingside.it ed è molto importante ritagliarti il tempo per preparare il tuo corpo perché ho visto troppe volte persone adulte che si sono fatte male giocando e non hanno poi più ripreso dimenticandosi completamente del proprio corpo fino al giorno che lui, il corpo, gli ha presentato il conto tutto in una volta con malattie e problemi più gravi di uno strappo o una distruzione alla caviglia. Il messaggio con il quale voglio salutarti in questo video è che tutti possono muoversi e godersi il proprio corpo a qualsiasi età. Per oggi è tutto, noi ci vediamo settimana prossima in un nuovo video. Ti abbraccio! Ciao!